Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick, ben arrivati su Caffè Ovner Simulator Gioco ragazzi, non ancora uscito, me l'hanno dato in anteprima, esce esattamente il 5 dicembre solo per PC Che gioco è questo raga? Questo ragazzi è un gioco, come dire, un miscuglio di vari giochi che ho già portato Assomiglia un po' ad House Flipper, c'è qualcosa che sembra presa da Boom Simulator E poi c'è anche molta gestione, diciamo, in pratica dobbiamo gestire una caffetteria, ristorante, pizzeria Quindi c'è parecchio da fare Vi faccio subito vedere, nuova partita Allora, vabbè, praticamente in breve, perché c'è molto da leggere In breve praticamente nostro padre gestiva un locale Solo che poi questo locale è andato a male Lui si è ammalato, ci ha lasciato un po' di soldi per aprire la nostra attività Quindi diciamo in breve, diciamo pure così Ok, quindi Si inizia praticamente con un ex, potrei dire, supermercato Che noi però dobbiamo trasformare in pizzeria, caffetteria È molto molto interessante questo gioco, raga Veramente molto ma molto interessante Penso che ci farò una piccola serie Perché è anche molto lungo C'è anche la questione gestione degli operai Quindi da un certo punto di vista assomiglia anche a Gas Station C'è veramente molto in questo gioco Veramente molto Ok, ci siamo Lunedì, nuovo giorno Allora, benvenuto a Castle Lake Ho sentito che stai progettando di aprire un ristorante e un motel addirittura Se è così è una buona notizia La nostra città non ha abbastanza posti dove mangiare e divertirsi Mi chiamo Dryas O'Ownens E sono lo sceriffo locale Se hai bisogno del mio aiuto puoi sempre chiamare il dipartimento di polizia Buona fortuna con la tua attività e buona giornata Allora, praticamente Lo scopo attuale è quello di sistemare il locale Perché è abbandonato E' completamente uno schifo Sporcizia dappertutto E' tutto scassato Vetri rotti E' bello il gattino nero Questo mi ricorda molto Quell'altro gioco Animal Shelter Allora, innanzitutto riattiviamo la corrente elettrica Ok, ora dobbiamo entrare dentro il ristorante Quindi Andiamo all'ingresso E iniziamo a ripulire Così E si entra Ora da qui in poi Dobbiamo pulire Pulisci tutta la spazzatura fuori e dentro l'edificio Quindi basta fare così E dobbiamo rimuovere tutta la sporcizia Dobbiamo ammodernizzare il tutto Quindi dobbiamo dipingere Perché ovviamente Cos'è? Il cestino è pieno Quindi in pratica Dobbiamo chiamare Il tipo Rimozione rifiuti 49 dollari Ok, ho ordinato la raccolta dei rifiuti Intanto Vabbè che ci stanno i topi Lo vedo Intanto dobbiamo anche comprare Lo strumento Mob sporco Allora Vediamo un po' Con il rastrello possiamo togliere Le foglie Così intanto Tolgo tutte le foglie Sia dentro che fuori Ancora mancano più di 100 cose da togliere Lo vediamo in alto a destra In alto a destra potete notare 104-103 rifiuti da raccogliere 80 cose da riparare E tre topi da catturare Allora Questi quartieri Sono abitati da senza tetto Proprio come ovunque Di tanto in tanto Possono visitare Il tuo stabilimento Per chiedere soldi Fare del male O talvolta solo per osservare Come gestirli Come gestirli dipende da te Quindi ci stanno I senza tetto Qui da qualche parte Non lo so Non so dov'è questo senza tetto Per ora mi limito Ad attuare il mio compito attuale Dobbiamo anche pulire tutto il viale Poi ovviamente nel tempo Il vento trasporterà altre cose E quindi nel tempo dovremo continuare a pulire Ok Congratulazioni Hai raggiunto il livello 1 E mi hanno anche dato dei soldi Che vediamo in alto ovviamente Allora Ehi ma non avevo tolto questa robaccia Ok io penso che le foglie le ho tolte tutte Ovviamente alla spazzatura Sono venuti a prenderla Quindi A posto Ok abbiamo praticamente Quasi rimosso Ok Ok abbiamo ripulito tutto Allora strumenti Forse possiamo No cos'è qua No 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 dipendenti no Strumenti Cattura a ratti 120 dollari La rete per catturare i topi Allora Dobbiamo Dobbiamo prenderli Così Presi Ok Adesso dobbiamo fare le riparazioni Del vetro E di tutto qua E di quant'altro Del tetto Queste stanze Sono chiuse per ora Per ora Non sono accessibili Allora Cominciamo con il Riparare I vetri Basta fare così Ogni vetro So 30 dollari Tutti Tutti rotti Ah non ce n'è uno Che si salva Fatto Ok i vetri Sono tutti a posto Ma dobbiamo riparare Questi E poi dobbiamo salire Nel tetto Ammazza Che velocità Ok Allora abbiamo finito Di riparare Questi blocchi esterni Saliamo nel tetto Dobbiamo dare una Bella riparata Al tetto Credo che sta A fabbuio Non è finita Mi pare Dobbiamo riparare Questo Ok Attività Completata Questo qui Non lo so Che cos'è L'ho preso Ok Lattina Con ricompensa Periodicamente Puoi trovare Lattine di metallo Aprendole Ti darà Un premio In denaro Casuale E punti esperienza Le lattine Possono essere Trovate A tutti i livelli Di gioco Ok Questi vetri Non si possono Riparare Questo è un Secondo piano Che dobbiamo Acquistare Successivamente Forse qui sopra Ci facciamo Il motel Io vedo Anche quello Spazio Lì Probabilmente Lì ci farà Costruire Più avanti Allora Cambia I rivestimenti Pareti E Ho la carta Da parati Ok Le pareti Dobbiamo sistemare Staffa Buio Sono le ore 19 Vabbè Dobbiamo Sistemare Dunque Aspetta Tavoletta A vasone Qua Mi ricorda Tantissimo Mi ricorda Tanto The Sims Tipo Carta Carta Da parati Potremmo farlo Tipo Rosso E qui Mi ricorda House Flipper Anche se Non c'è da bagnare Il rullo Qua In questo caso Però Si ricorda Di brutta House Flipper Ok Andiamo avanti Così Quindi potete Colorare Come vi pare Insomma Ok Abbiamo finito Livello 2 Ok No dobbiamo installare I rilevatori Di fumo Nel caso Qualcosa va a fuoco Ne mettiamo 2 qui Perché qui è dove Ci faccio la cucina Uno lo metto qua Uno lo metto qua Uno lo metto qua Uno lo metto qua Va bene Ok E poi Ok Adesso dobbiamo Creare Il menu Di quello Che vogliamo Vendere Quindi Menu Che tipo Di Cosa vogliamo Vendere Possiamo vendere Le pizze Abbiamo il sushi Abbiamo la lasagna Quindi la pasta Abbiamo le zuppe Pure di patate Tacchino Pasta carbonara E così via C'è anche la pizza Carbonara Qui a quanto pare Allora Facciamo così Mettiamo Che so Un paio di pizze Quindi Dove è finita la pizza Pizza margherita Facciamo Pizza 4 formaggi 2 pizze Facciamo Magari Un po' di sushi La lasagna La pasta Quindi Tacchino E Pasta carbonara Ok Buono 2 4 6 Va bene Poi Dobbiamo comprare Gli ingredienti Negozi alimentari Tutto quello Che è in verde Lo devo comprare Dove c'è il puntino verde Vuol dire Che mi serve Dove non c'è Vuol dire Che al momento Non mi serve Quindi compriamo Del pomodoro Compriamo Questa che pare Mozzarella Ketchup Non lo so Pesce Ok direi che abbiamo comprato Tutto quello che mi serve Ed è tutto qui Prendiamo le scatole Le dobbiamo portare dentro Qui c'è la cella frigorifera Dobbiamo mettere tutto Dentro la cella frigorifera Ogni scatola contiene 20 ingredienti Quindi Penso possiamo soddisfare 20 menu Non lo so Comunque Abbiamo comprato Tutto quello che serve Dobbiamo mettere tutto Nella cella frigorifera E poi E poi vediamo Che altro ci fa fare il gioco Vabbè Ci fa fare il locale Ancora il locale Non è pronto Manca il soffitto Manca il pavimento Mancano i tavoli Manca Manca tutto Ok questa è l'ultima scatola Allora Metti un registratore di cassa Tavolo da cucina Un forno E un frigorifero Ok Sì ma c'è un buio Qua dentro Però Qualcuno dirà nicchia Perché non metti le luci Non metto le luci Perché poi Tecnicamente Me le fa mettere lui Però magari Mettiamo una Che qua dentro Non si vede un fico secco Lampada Per ora Diciamo Non abbiamo Una enorme scelta Mamma mia Quanto è forte Però Se magari La metto Una Verso l'ingresso Così Più o meno Almeno Almeno c'è un po' più di luce Allora Metti un registratore di cassa Quindi Vendita Registratore di cassa E lo andiamo a mettere Qua Poi Tavolo da cucina Allora Tavolo da cucina Vediamo Che in futuro Ne vorrei mettere due Quindi Vediamo Posso mettere qua Ok qua Ok qua Bene Potrei già mettere due Due tavoli da cucina Sapete che cosa Significa Che posso assumere Due operai Ne piglio due Già adesso Poi Anche se No Penso che Potrebbe andare bene No va bene Va bene Poi Mi serve Lavandino Per ora Non lo so Mi serve La cucina La La vado a mettere qua Poi mi serve Il frigorifero E questo Vabbè Lo piazzo Magari qua Mi pare Che abbiamo Tutto Manca Una cosa Ehm No vabbè Finchè non me la chiede Devo mettere La presa Allora Vedete che C'è stampato Che vuole la presa Una qua Di presa Una qua Per la K Una qua Per il frigo Una qua Per il Bancone Allora Potenza Ok Potenza Ok E poi qua Ok Allora Metti una K E un Lavello Ok K K K K K K K Ventilazione Potenza Ok Ok E un Lavello Lavandino Lavello No Lavello No Lavandino E Bloccato E allora Questo Per forza Boh Non lo so Metto di qua Tanto poi Si possono Spostare Se non Siamo Soddisfatti E Due Tavoli Ok Anzi Io di tavoli Ne metterei pure Tre Arredamento Eccoli qua Allora E' arrivato Tizio Aspetta Io un altro Ok Tavoli Ne abbiamo Tre Che Boia Ottanta Dollari Gli devo Dare Vabbè Vai Ciao Mamma Allora Perché l'ho pagato Ragà L'ho pagato Perché Praticamente Se non lo pago Mi rompe i vetri Mi fa più danni Assumi un dipendente E Prova Tinn E basta Pallare Allora Assumiamo Qualcuno Di Decente 70 Dollari Anzi Ne assumiamo Pure un altro Ok Assegniamo L'operaio Emily Emily Doppio Emily E installa Due lampade Sì Questo Assolutamente Avasone La 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 No Soffitto No Bagno Per ora Niente E Ma si Madonna Quando so Forti Ste Lampade So Dannatamente Forti Secondo me Le luci So Troppo Forti E Una cosa Assurda Secondo me Le luci In sto Gioco Sono Dannatamente Forti Carca Miseria Vabbè Poi dobbiamo Mettere Due Bagni Fuori Due Bagni Fuori Perché per ora I bagni interni Non ce li fa usare Ok Apri il ristorante Siamo pronti Per aprire Sono le 6 del mattino Cosa mi Ma Madonna Quanto so Forte Ste luci Le possiamo Anche Gestire Da qui Accendi Automaticamente Le luci In questo Menù è possibile Impostare L'illuminazione Esterna Ah Quella Esterna Non Quella Interna Ah Quella E Quella Interna Come Cavolo La Giustisco Boo Non ho capito Come si accendono Spengono Ste luci So Fortissime Allora Va bene Per aprire Il ristorante Alla Fine Bisogna Cliccare Qua giù E Mo Siamo Aperti Mo Può Arrivare Qualcuno Il mio compito È semplicemente Quello Di Accogliere I clienti E di Servire Perché per ora Non possiamo Per ora Non possiamo Assumere Qualcuno Che gestisce Il tutto Clicchiamo Qua Allora Il cliente Vuole la pasta Carbonara Andiamo su Pasta Pasta Carbonara Fatto Ora Il cliente Va a sedersi Ok È il nostro E uno Dei due Si è messo Al lavoro A posto Se arriva Un altro Cliente L'altro Nostro Chef Si metterà Al lavoro Quindi Possiamo Gestire Due ordini Alla volta Ok Un altro Cliente Vediamo Che cosa Vuole Pizza 4 Formaggi Pizza 4 Formaggi E L'altro Chef Si mette Al lavoro Ok Allora Mostra Ordini Pronti Prendiamo La pasta Carbonara E la Andiamo A servire A lui Buon appetito Signore Poi ovviamente Questi ogni tanto Sporcano E allora Noi diamo Una bella Pulita Per terra A posto Cuciniamo Non possiamo Assumere Nessuno Qui Fino a quando Non arriviamo A livello 5 In teoria Un'altra Pizza 4 Formaggi Ok Ok La valutazione Sale Va bene Prendiamo La pizza 4 Formaggi Tutte e due Hanno ordinato Pizza 4 Formaggi Però La dobbiamo Dare Al cliente Illuminato Di bianco Che era lui Non è che Devo servire Prima Chi è arrivato Dopo Il cliente Qui Lascia I soldi 2 Dollari Poteva pagare Di più Mi poteva anche Dare una bella Mancia Ok Arriva un altro Cliente Questa proprio Viene da un altro Ristorante Viene a provare I nostri cibi Vuole un bel Tacchino Oddio Dove si trova Il tacchino Tacchino Altro Ok Vai Allora L'altra Pizza Ecco che Vedete che E' illuminato Il cliente I soldi Togliamo La spazzatura Ma tutti che Sporcate Porca miseria Perfetto Andiamo ad Accarezzare Il gatto Ho pagato Ho pagato Gli stipendi Hai bollette Da pagare Fattura Elettricità Gas Acqua Paga Ok E' arrivato Un altro Cliente Un altro Tacchino Perfetto Perfetto Disastri Naturali Arrivato Un tornato All'improvviso I clienti Mangiano Tranquillamente Tanto Non gliene Po' fregare De meno E Nick Durante un tornato Serve comunque I clienti A posto Appena aperto Già si spacca Tutto Allora Pizza Quattro Formaggi Ecco Lei La gente Mangia Tranquilla Pure Con i tornato Preso Allora Andiamo a sostituire Tutto ciò Che si è rotto Ci sono altre cose Comunque Rotte Purtroppo Un'altra Pizza Pizza Margherita Allora Praticamente Si sono rotte Altre cose Fuori Vabbè Poi non ne parliamo Ovviamente Il tornato Ha fatto i danni Che voleva fare Ma ci va pure Temec Ma anche Pure Incavolato Arriva Dopo che Gli ho dato 80 dollari Allora Posta Carbonara Buono Ma si In pezzo In merda Non te l'ha detto Nessuno Cioè Cavolo Dopo che Io ho dato 80 dollari Mi rompe pure Le finestre Prego Cestino pieno Rimozione Rifiuti Sushi Sushi Philadelphia Ok Arrivato La rimozione Rifiuti Non vedo l'ora Che possiamo Assumere Più Gente Va bene Raga Questo è il gioco Io vedo Che il tempo L'ho finito Quindi direi Che Vado A concludere Il gameplay Poi andiamo avanti E vediamo Cos'altro C'è da fare Ragazzi Spero vi sia Piaciuto Il gameplay Come sempre Vi invito A commentare Iscrivetevi Lasciate un bel Pollicione In su Vi ricordo Che in descrizione Trovate un link Che vi permette Di comprare Tanti giochi Scontati Ciao Alla prossima Raga Alla prossima Grazie a tutti.